È stato presentato ieri a Nuoro nel Teatro Eliseo il teaser del docufilm Atenore con la regia del musicista nuorese Gavino Murgia, la direzione della fotografia e il montaggio di Ferruccio Goya un'anticipazione di 55 minuti di quello che sarà il lavoro finale che dovrebbe essere pronto nel 2019 un evento inserito nella programmazione del TEN gestito da Sardegna Teatro un racconto dedicato a quella che è la forma di espressione musicale più antica dei sardi il canto a tenore che è stato proclamato dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità un viaggio che vuole raccontare e documentare questa eccezionale tradizione propria del centro Sardegna estremamente collegata alla tradizione agropastorale e che affonda le sue radici nella notte dei tempi nel rapporto tra uomo e natura che ancora oggi vede tanti tenores presenti nelle comunità dell'interno che riescono ad esprimere col canto a tenore l'essenza e l'anima di un popolo alla prima di quest'opera che vuole fissare per immagini, suoni e colori un mondo che trae ancora forza dalla cultura del pastoralismo tanti tenores che hanno voluto assistere a questo omaggio al canto a tenore che arriva da Gavino Murgia, musicista internazionale ma che ha le sue radici in questa antica forma d'arte un teaser che già di per sé è un piccolo capolavoro per forza espressiva e capacità di raccontare al termine della proiezione, coordinata dal giornalista Paolo Correlli Gavino Murgia ha accolto sul palco non solo Ferruccio Goya, compagno di viaggio in questa avventura artistica ma anche i tanti tenores che hanno fatto la storia di questa espressione unica e inimitabile della cultura agropastorale del centro Sardegna